Nicola Monti ci troviamo qui nella sede di Edison in uno dei palazzi centrali di Milano lontani dalla skyline della città ecco per un'azienda come voi che ha una lunghissima storia cosa rappresenta questo palazzo cosa rappresenta questa questa sede? Ci identifica molto rappresenta le nostre radici questo è un palazzo di metà dell'ottocento la società è stata creata proprio alla fine dell'ottocento primo operatore primo produttore di energia elettrica in Europa quindi peso della storia si vede dalla dimensione e dalla forza in cui bisogna spingere il portone d'ingresso però una volta entrati ci si rende conto che ci sono tanti giovani che è un palazzo vivo dove si generano idee si guarda al futuro più che al passato la prima domanda che devo fare anzi la seconda ormai la facciamo un po' diciamo a tutti i manager che stiamo intervistando in questa serie le chiedo di provare a chiudere gli occhi per 5 secondi immaginare il futuro e dirmi cosa vede beh è un futuro con poco rumore forse senza rumore come dire un ambiente che ci renda tutti un po' più tranquilli un po' più sereni un ambiente con più con più luce questa è un po' la visione che ha a che vedere con tante cose anche con l'energia con il modo in cui noi concepiamo l'energia e viviamo gli spazi comuni le città una delle cose che che impressionano quando uno vede ad esempio un'auto elettrica e che non fa rumore quindi mi immagino un futuro diciamo quello che lei immagina di transizione rispetto alle fonti fossili anche in ragione del fatto che come si dice oggi bisogna abbattere le emissioni di co2 per combattere il riscaldamento globale come si fa la transizione energetica alcuni dicono puntare 100 100 sulle rinnovabili altri dicono no meglio diciamo un mix con nucleare e idrogeno io credo che lei sia una delle persone più indicate a cui chiedere come si fa noi come società abbiamo un'interpretazione più ampia del concetto di transizione la transizione non si fa con la bacchetta magica è una transizione che ha degli obiettivi di lungo termine al 2050 l'obiettivo di cercare di annullare quelle che sono le emissioni complessive e lo si fa usando la tecnologia sicuramente ma non c'è una ricetta una soluzione unica dobbiamo sicuramente ridurre l'utilizzo di combustibili fossili che sono i principali responsabili delle delle emissioni quindi per chi fa produzione di energia elettrica la produzione di energia elettrica è la prima responsabile delle emissioni oggi per la maggior parte del mondo si usano combustibili fossili abbiamo bisogno di cambiare questo mix il nucleare ci aiuterà continueremo utilizzare il gas per la transizione perché 30 anni o 25 anni di transizione non vuol dire cambiare dalla sera alla mattina il modo in cui produciamo e consumiamo non vuol dire fare un percorso perché questo percorso ci deve permettere di continuare ad avere disponibilità di energia in modo continuativo e anche con un costo che sia alla portata di tutti questo è un problema nostro come paesi occidentali sviluppati ma anche abbiamo bisogno questo modello di applicarlo nei paesi che hanno un problema di carenza proprio strutturale di produzione di fornitura di energia energia alla base dello sviluppo sociale economico industriale di un paese quindi dobbiamo trovare delle soluzioni che siano applicabili a tutti la tecnologia ci deve aiutare non abbiamo tutte le soluzioni tecnologiche oggi disponibili li conosciamo alcune le energie rinnovabili come il sole e il vento per produrre energia oggi sono già delle energie disponibili e sviluppate su scala industriale quindi economiche e stiamo facendo tanti investimenti in tutto il mondo e anche noi in italia in questa direzione ma ci sono anche tante tecnologie nuove che devono ancora essere sviluppate industrializzate rese economiche la produzione di idrogeno per esempio l'eolico offshore diverse tecnologie sulle batterie di accumulo per grandi scale per le reti il nuovo nucleare che oggi ha dei costi molto alti ma un obiettivo di modelli innovativi fino a traguardare alla fusione nucleare che magari vedremo fra qualche decennio la cattura per esempio della della co2 che ci potrebbe permettere di continuare a utilizzare combustibili fossili quindi abbiamo un panorama di soluzioni tecnologiche che devono essere tutte monitorate e tutte ci daranno un contributo durante il percorso di transizione alla fine di questo percorso se saremo capaci di utilizzare bene la tecnologia ed industrializzare quelle tecnologie che si dimostreranno più promettenti e più efficienti beh allora veramente arriveremo a un obiettivo di annullamento delle emissioni che non sarà solo a beneficio dei paesi ricchi che si possono permettere di finanziare nuove tecnologie nuove industrie ma sarà un modello che riusciremo a esportare in tutto il mondo anche perché lei parlava comunque di bacchetta magica che non esiste le contraddizioni in questa diciamo fase di transizione sono evidente è finita da pochi mesi cop 28 sono due dati che mi ha colpito il primo che le emissioni comunque stanno continuando ad aumentare su scala globale scala globale anziché diminuire il secondo è che aumentano anche in ragione della nostra volontà di decarbonizzare un paese l'indonesia nel 2023 visto crescere a dismisura la proprio consumo di energia derivante dal carbone perché per estrarre il nickel che serve per fare le batterie elettriche per decarbonizzare com'è che si esce da questo paradosso si esce dove sicuramente le batterie ci serviranno per esempio per la mobilità elettrica oggi la scelta tecnologica più evidente sembra quella di andare verso un'industria automobilistica che prediliga le batterie poi trasporti sono vari ci sono i trasporti pesanti i trasporti aerei e quelli ferroviari e con le soluzioni non ci sono ancora i trasporti marittimi per esempio però avremo sicuramente bisogno di batterie le batterie hanno dei componenti alcuni dei quali per essere oggi prodotti ed estratti consumano ed emettono più di quanto poi andiamo a risparmiare utilizzando le auto elettriche quindi se facciamo un ciclo integrale quello che si chiama well to wheel quindi dal pozzo alla ruota per un'auto elettrica vediamo che non è ancora evidente per esempio il vantaggio però la direzione è quella e noi dobbiamo continuare ad insistere sul modo di produrre energia alla fonte che sia il più decarbonizzato possibile il carbone è la prima fonte che dobbiamo abbandonare perché è quella che emette di più quindi andare a sostituire il carbone col gas per esempio come fattore di transizione già ci permette di abbattere circa del 30 per cento le emissioni quindi non c'è una scelta da oggi non uso più il carbone e uso le rinnovabili abbiamo bisogno di un accompagnamento ecco questa è un po l'ideologia da rompere quella di dire da domani mattina cambio modello perché se quel modello non è ancora pronto non è ancora sostenibile economicamente io non posso permettermi di farlo il costo dell'energia è un elemento fondamentale e competitivo per l'industria di un paese non si possono fare delle scelte che ci allontanano dalla competitività dell'energia ecco un altro grande paradosso un'altra grande questione a livello geopolitico legata alla transizione energetica è la dipendenza alle materie prime fino a qualche anno fa un'economia come quella italiana anche banalmente era dipendente da tutti quei paesi che restreva ne raffinavano combustibili fossili poi ce li vendeva domani non rischiamo di diventare dipendenti da quei paesi che estraggono i cosiddetti minerali rari o terri rare come si chiamano necessari per produrre ad esempio componentistica per batterie elettriche chip e via dicendo parlato prima del michel ma c'è che non è una terra rara ma c'è il silicio ce ne sono un sacco di materiali cobalto e ovviamente quando parliamo di questi materiali c'è un produttore che fa più del 90 per cento dell'estrazione che la cina torniamo al tema della diversificazione e del ventaglio di scelte tecnologiche da fare anche qui non c'è una sola risposta non avremo solo un mondo fatto da impianti fotovoltaici e batterie di accumulo perché allora sposteremo la dipendenza per esempio sui materiali critici e materiali rari di cui quantomeno in italia in europa siamo un po poveri scelte tecnologiche devono essere sulla produzione di energia varie quindi non solo stoccaggi elettrochimici per l'energia elettrica ci sono i pompaggi per esempio e ci sono nuove tecnologie sulle batterie che sono le batterie a flusso che hanno bisogno di elementi differenti sono ancora batterie in fase prototipale non sono ancora sviluppate industrialmente probabilmente saranno quelle più efficienti per fare grandi stoccaggi a livello di rete di rete elettrica e poi ci sono le altre tecnologie il nucleare io credo che un ritorno del nucleare o in particolare in italia sia una scelta quasi obbligata perché abbiamo bisogno di energia che sia programmabile e decarbonizzata e le soluzioni sono o di continuare a utilizzare il gas andando a sequestrare poi la co2 o utilizzare il nucleare la tecnologia nucleare si è evoluta tantissimo negli ultimi decenni quindi i ricordi che abbiamo che derivano da incidenti io mi ricordo personalmente quello di cernobil parliamo di tecnologie che sono totalmente sorpassate quindi bisogna sempre avere un mix di soluzioni tempo al concetto del contadino che non mette mai tutte le uova nello stesso basket nello stesso cestino perché se cade si rompono bisogna diversificare le scelte tecnologiche questo genera più indipendenza energetica e genera più più sicurezza di di avere energia disponibile ovviamente con energia decarbonizzata come obiettivo cito un dato che ho letto proprio sul vostro sito in cui si dice che il 75 per cento dell'energia che consumiamo la consumiamo nelle città nelle grandi città quindi il tema della decarbonizzazione anche un tema di trasformazione urbana ecco secondo lei come devono cambiare le città per aiutarci a decarbonizzare lei prima parlava di un futuro silenzioso esatto l'inquinamento principale è dato dalla mobilità e qui parliamo di città non so città italiane o milano sono città che hanno una pianta medievale che certamente non erano concepite per avere il traffico che c'è oggi quindi la riduzione del traffico e io vedo un futuro dove non solo ci sarà un cambiamento dalla mobilità attuale a quella elettrica ma anche dove alla fine i centri urbani saranno saranno tutti pedonati ovviamente questo vuol dire poi investire in trasporti pubblici in modo più efficiente più più diffuso e l'altro sono dei riscaldamenti in tutte le città del insomma del nord europa del centro europa il riscaldamento è necessario durante i periodi invernali e anche il condizionamento d'estate e il condizionamento anche d'estate qui l'elettrificazione delle necessità termiche degli edifici e l'isolamento termico degli edifici diventa importantissimo in generale il primo modo per risparmiare energia e risparmiare emissioni e quello di consumare meno sembra una banalità ma se adottiamo tutte le tecnologie più efficienti nella produzione del consumo noi un quarto un terzo delle emissioni le abbattiamo questo è comunque il miglior modo certo bisogna fare degli investimenti per esempio sugli edifici questo è un tema non banale bisogna avere il tempo adeguato per farlo bisogna permetterci mi permetta di leggerle una frase mi scusi ma non l'associare a memoria entro breve tempo i libri saranno obsoleti nelle scuole è possibile sapere ogni branca del sapere umano con l'aiuto dei documentari il nostro sistema scolastico cambierà radicalmente nell'arco di dieci anni indovini chi l'ha detta questa frase mi sembra abbastanza attuale a thomas edison esattamente 100 anni fa quindi la vostra persona ha dato il nome alla vostra azienda ora però voglio fare lo stesso gioco con lei che dirige un amministratore delegato entro breve tempo cosa diventerà obsoleto secondo lei mi sembrava abbastanza attuale questa questa affermazione anche se a 100 anni perché credo che la scrittura la carta o i libri andranno a scomparire se noi oramai facciamo tutto con lettura con con audio messaggi anch'io devo dire trovo difficoltà quando devo prendere degli appunti o scrivere di penna perché non sono più abituato sono abituato a scrivere su una tastiera quindi probabilmente ci dimenticheremo questo utilizzeremo la carta probabilmente solo per gli imballaggi e non tanto per i libri i libri diventeranno come i dischi di vinile la pensa come edison però lo diceva 100 anni fa adesso adesso succede davvero in chiave digitale al tempo non c'erano diciamo gli strumenti che ci sono edison è sempre stato un grande visionario anche in questo adesso le faccio fare un altro gioco però diamoci una data 2030 io dico un po di oggetti e lei mi dice se secondo lei legandosi a questi oggetti noi riusciremo a ridurre in modo significativo le emissioni di co2 in atmosfera cominciamo con le automobili sì credo che dal 2030 faremo un significativo passo di riduzione andando aumentare la percentuale di auto elettriche aeroplani aeroplani per il 2030 non credo la tecnologia anche nella produzione dei combustibili che servono per gli aeroplani credo che sia ancora indietro rispetto ad un obiettivo così breve 2030 diciamo in un'industria che si deve trasformare e domani le case le case ci sono le soluzioni assolutamente qui una questione di disponibilità economico finanziaria per mettere in campo quelle misure che servono per per fare gli isolamenti negli edifici abbiamo visto il tema del bonus 110 quanto grava sulle sulle finanze pubbliche 2030 faremo un passo in avanti ma in italia non credo che ci permetteremo di fare una grande trasformazione diciamo che lo faranno altri magari prima di noi sì i vestiti l'industria del tessile in generale la produzione questa credo che incida poco in generale non è un'industria energivora c'è molta più attenzione oggi su questo quindi credo che si farà un passo in avanti ma non così trasformativo quantomeno come impatto globale sul cibo invece che grava un po di più il cibo grava molto io credo che qui ci sarà un passo importante non solo 2030 ma anche per le generazioni future non dico che non mangeranno più carne le generazioni future ma se ne mangerà decisamente molto molto meno c'è un'attenzione verso questo tema molto alta sulle nuove generazioni magari si mangerà anche carne di animali che oggi non mangiamo tipo gli insetti assolutamente e poi si mangerà sicuramente più verdure legumi molto più vegetale rispetto ad oggi magari non saremo tutti vegani o vegetariani ma ma credo che la percentuale di persone che mangerà sempre meno carne sarà sempre molto più forte adesso le faccio una domanda però più legata al suo ruolo anche qui proviamo a declinarlo al futuro lei è uno dei più importanti manager in italia di una delle aziende più grandi di questo paese e ha una caratteristica diciamo che la contraddistingue con la grande maggioranza diciamo dei suoi colleghi cioè che è maschio in italia c'è una grande difficoltà da un lato occupazionale ma soprattutto diciamo ad ascendere a posizioni di vertice per le donne secondo lei come mai e come si può invertire nel futuro questa situazione che è comunque uno dei grandi risolti è vero ci sono due componenti una che facciamo difficoltà come società a promuovere le persone giovani secondo che ci troviamo con invece una classe dirigente più oggi spostata verso il genere maschile quindi si fa più difficoltà oggi a inserire persone femminili soprattutto giovani all'interno dell'organizzazione il nostro settore è uno dei settori credo che ha la componente femminile come come produzione energia più bassa noi siamo al 25 per cento di percentuale femminile in totale che non è molto ma abbiamo un obiettivo di assunzione bilanciato tra uomini e donne quindi siamo consapevoli che stiamo costruendo una pipeline di di assunzione di formazione di promozione di persone che sia assolutamente equilibrato c'è ancora una prevalenza sulle materie stem quindi su persone laureate o educate con materie stem che è una prevalenza maschile però non è più come in passato un 70 30 siamo siamo 55 45 quindi questa percentuale ce la portiamo io sono convinto che da qua a dieci anni noi avremo esattamente le stesse possibilità probabilità e occasioni di nominare in posizione dirigenziale in posizione apicali delle donne rispetto degli uomini oggi abbiamo una difficoltà proprio perché la percentuale che ci troviamo lo dico per noi in azienda ma credo che sia un problema generale è ancora troppo troppo bassa è una questione di tempo ci sono dei diciamo delle regole oggi che che obbligano le società le società quotate ad avere una certa percentuale di donne nei consigli per esempio noi ovviamente l'adottiamo questo serve a come dire creare una una cultura che sia molto più bilanciata ci arriveremo senz'altro io credo ci abbiamo bisogno ancora di cinque dieci anni un'altra domanda legata ai valori legata al tema dei valori le chiedo tre valori che si porterebbe nel futuro se dovesse sceglierne tre da mettere in valigia quali sarebbero la curiosità la voglia di continuare a imparare il rispetto degli altri che serve per avere una società serena e per apprezzare quelle che sono le diversità che ci offre il mondo e l'altro è un po il spirito imprenditoriale l'energia la voglia di fare queste sono secondo me le tre tre componenti che servono per guardare con ottimismo il futuro curiosità rispetto voglia di fare lei ci ha raccontato un futuro migliore ci ha raccontato un futuro meno rumoroso un futuro dove abbatteremo o comunque ridurremo di molto le emissioni di co2 quindi più pulito ci ha raccontato un futuro in cui ci saranno più donne che lavorano e più donne in posizioni apicali anche in quei settori dove oggi ce ne sono di meno ma se dovesse dire una sola cosa per convincere una persona giovane che oggi sta vivendo un presente di pandemie di guerre di crisi economiche che deve essere ottimista guardando al futuro cosa gli direbbe innanzitutto che la fortuna di essere giovane e quindi di poter guardare avanti con serenità e con quella caratteristica iniziativa e di divisione di visione laterale che hanno che hanno i giovani quindi hanno quell'entusiasmo che serve noi abbiamo bisogno dei giovani perché il futuro sarà dei giovani quindi curiosità ancora una volta voglia di imparare e voglia e voglia di fare ognuno deve essere autore del proprio destino bisogna avere la consapevolezza di avere questa energia questa voglia di cambiare il mondo grazie mille grazie grazie mille grazie a tutti